Ciao a tutti ragazzi! Sono sempre io, il vostro amico Gabri Costa. In questo videogioco di Metal Gear Solid 4, visto che siamo sempre nel primo atto e siamo sempre in Medio Oriente, lo sapete dove siamo adesso? Siamo nel palazzo degli Hal Bori. È qui che troveremo la Rat Patriol. Però bisogna cercare la strada giusta e bisogna cercare le scale giuste. Vediamo dove ci portano queste scale. Mi sa che siamo da soli e non ci rompe le scatole più nessuno, quindi non ci sono più i soldati genetici, i soldati nemici a darci fastidio. Almeno abbiamo un po' di tranquillità, un po' di tregua. Ecco, questa strada è bloccata e non possiamo salire su queste scale. Mi sa che abbiamo scelto le scale sbagliate. Andiamo a cercare delle scale giuste. Ogni volta che raccogliete un'arma, riuscite a venderla e quando la vendete potete andare nel negozio di Drebin a spendere. Se state perdendo salute, mangiate le razioni. Oh, c'è un tranello ragazzi, fate molta attenzione. Sul pavimento ci sono anche delle mine. Io vi consiglio di usare un'arma per toglierle di mezzo e distruggerle. Queste mine vanno distrutte, quindi non c'è bisogno di usare il cercamine. Ho fatto un errore, scusatemi, non lo sapevo che c'era una mina. Dovevo distruggerla. Sono un po' distratto, scusatemi. Questa strada è bloccata, non posso passare. Devo stare attento quando ci sono le mine. Quando ne localizzo una, la distruggo, sparandogli. Sono dappertutto queste mine. Ricordatevi di mirare con L1. Spostate la levetta... Ricordatevi di tenere premuto L1 per prendere la mira. Potete spostare la levetta analogica a destra, il mirino, e poi sparate premendo R1. Per ricaricare le munizioni, premete cerchio. Ci siamo ragazzi, stiamo per raggiungere la Rat Patreol. Ricordatevi che quando vedremo la Rat Patreol, vedremo Meryl Silverburgo e i suoi compagni, Akiba, Ed e Jonathan. E abbiamo finito. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Arrivederci.